Musica Cari amici, bentrovati a un nuovo appuntamento con la Chiesa nella città. È iniziato il mese di novembre, un mese che nei primi giorni è particolarmente denso di celebrazioni di carattere religioso. Sapete naturalmente della celebrazione di ogni santi, di quella dei defunti e in particolare per la diocesi di Milano anche la celebrazione del santo copatrono della stessa diocesi, ovvero San Carlo. Occasione per il Cardinal Tettamanzi nel corso del pontificale per rivolgersi ai preti della diocesi. Vediamo il servizio. Dopo l'obbedienza alla povertà sacerdotale, quest'anno nella solennità di San Carlo, il Cardinale e i suoi preti, in un'omelia che ormai è tradizionalmente dedicata proprio al clero, parla del celibato ecclesiastico, nella celebrazione che si apre con il dono delle reliquie di Don Carlo Gnocchi. Giorno vissuto nel nome Carolino, di Santi e Beati, entrambi sacerdoti ambrosiani. Parte attraverso i secoli di quello stesso presbiterio che nella festività dedicata al Borromeo, copatrono della nostra diocesi, anche quest'anno si riunisce in Duomo e al quale l'arcivescovo chiede di rivisitare le motivazioni appunto del celibato, curandone la qualità umana ed evangelica, come testimonianza viva per il regno, segno dell'amore sponsale di Cristo, ma che ha anche un preciso significato sociale, culturale, laico, in un mondo complesso e confuso, dove non mancano tentazioni e pericoli. In questo senso dobbiamo fare tesoro della sobrietà, uno stile governato dalla giusta misura in tutto, nelle parole, negli sguardi, nei cibi e nelle bevande, negli incontri, nei gesti, nell'uso del tempo, dei media. E il cardinale si rivolge così ai più giovani, alle possibili difficoltà dell'età, ai sacerdoti maturi che talvolta rischiano una deriva pericolosa di censura dei propri sentimenti, agli anziani che sentono tutto il peso della solitudine. E allora torna il nome di San Carlo perché il celibato presbiterale sia percepito come benedizione e dono, emblema di tutte le altre fedeltà chieste ai credenti, appello alla società. Perché possa sviluppare una cultura che educhi agli autentici valori della sessualità umana e al vero amore. Il discorso del cardinale Eipreti è disponibile in una pubblicazione del centro ambrosiano dedicata proprio a preti e celibato, disponibile nelle librerie cattoliche. E tra le tante celebrazioni del mese di novembre, domenica prossima, festa di Cristo Re, di cui parleremo anche nel commento al Vangelo, è anche la giornata di Ocesana della Caritas, che sarà preceduta da un appuntamento in programma per sabato, quando nel salone di Via Sant'Antonio V, il salone Pio XII, si trarà l'annuale convegno Caritas dal titolo Sobrietà, Solidarietà e Stili di Vita, alla presenza tra gli altri anche del preside della Facoltà di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Mauro Magatti. Parlavamo dei defunti in precedenza, della commemorazione del 2 novembre, anche l'arcivescovo naturalmente ha celebrato in quella giornata. E allora andiamo idealmente nel Duomo di Milano per seguire la celebrazione e quanto detto dall'arcivescovo. Avere il coraggio di non negare, come troppo spesso accade nella società di oggi, la morte degli altri, ma anche la nostra, evento certo doloroso e difficile da accettare, ma in cui è comunque presente la consolazione di Dio, del Signore che non abbandona mai. Il Cardinale Tettamanzi presiede la celebrazione eucaristica dei defunti nel piazzale del Cimitero Maggiore di Milano. Un momento di preghiera, riflette, e di intercessione dei nostri morti. E così, nel silenzio appena rotto dai moltissimi che si affollano nei viali, che portano alle sepolture, richiama il senso cristiano di una morte con cui nulla finisce, ma si entra in una sfera più alta, quella eterna. Vogliamo esprimere la nostra fede e dunque la nostra convinzione ferma e sicura nella risurrezione del nostro stesso corpo. E se, come diceva il saggio dell'antichità Gilgamesh, l'uomo è colui che cerca il significato della morte, questo stesso senso, per chi crede, è affidarsi a Cristo, come il figlio fece sulla croce con il padre. Parole ancora sottolineate dall'arcivescovo in Duomo. Se noi tutto questo non lo viviamo nella vita quotidiana, come sarà possibile vivere in pienezza il senso ultimo della nostra morte che è appunto l'incontro e la comunione con Dio, nostro amico e nostro padre. Domenica 1 novembre ha avuto luogo nel centro di Milano, in particolare nel Parco Sempione, l'ormai tradizionale processione del Signor dello Smilagros che ha visto protagonisti moltissimi fedeli del Sud America, in particolare peruviani. Anche noi ci eravamo e vi proponiamo delle immagini, secondo me, molto suggestive. La gente tantissima che rende omaggio, prega, prende in braccio i figli per portarli più vicini alle imagen. La sacra immagine del Cristo crocefisso, disegnata nel XVII secolo da un povero schiavo a Lima in Peru, sopravvissuta a incendi e catastrofi e che viene venerata, ormai non solo dai devoti peruviani, della confraternita del Signor dello Smilagros, ma da migliaia di latinos, che con le loro tradizionali vesti, viole e bianche, con i costumi della festa, affollano il Parco Sempione, dove si svolge la loro processione, dell'Hermandad, appunto la confraternita, sorta nel 1996, che dal 2008 è ufficialmente entrata a far parte di quelle diocesane per approvazione del cardinale Tettamanzi. E all'appuntamento, infatti, non ha voluto mancare l'arcivescovo, accanto a lui Monsignor Louis Barbarin, vescovo emerito di Chiambote. Il cardinale è accolto con entusiasmo grande da quelli che definisce fratelli e milanesi. La festa degli italiani e la festa dei peruviani. Oramai siamo uniti, uniti soprattutto nella fede. E poi dall'arcivescovo un auspicio. Io sono venuto a pregare il Signor dello Smilagros, perché sappia compiere nel cuore di ciascuno di noi il miracolo più importante. È il miracolo che ci conservi sempre nella fede. E tutti in uno spazio simbolo come il parco, dove si può portare il Signore e annunciarlo, andando oltre tanti luoghi comuni sull'immigrazione. Non soltanto la comunità peruviana o latinoamericana ha tutti questi aspetti negativi nei parchi di Milano, sino che noi stiamo portando al Cristo. Qui, una tradizione di più di 500 anni, le stiamo portando in questi parchi, dove c'è tutta la problematica della comunità latinoamericana. Processione, tra l'altro, che si è svolta nel parco anche per questioni molto molto pratiche. Negli anni scorsi, con la statua del Signore dello Smilagros in giro per il centro, praticamente era stata bloccata la circolazione per l'intero pomeriggio. Nel parco, invece, c'è stata la possibilità davvero di fare le cose con calma e con i tempi davvero sudamericani. E parliamo ora di un appuntamento per i politici e gli impegnati nel sociale a livello diocesano. Anzi, sono molti appuntamenti che inizieranno proprio domenica prossima e che saranno previsti nei vari decanati della diocesi. Lì verranno proposti gli incontri di spiritualità per gli impegnati nelle realtà sociali e politiche il cui calendario potete facilmente reperire sul portale della diocesi www.chiesadimilano.it A proposito di tematiche sociali e politiche il Cardinal Tettamanzi ha voluto presentare nei giorni scorsi il suo nuovo libro intitolato Etica e Capitale in uno dei luoghi della cultura finanziaria ed economica milanese, l'Università Bocconi. E allora vediamo il servizio. Inizia dicendo che sarà un colloquio familiare ma si comprende subito che l'incontro nel quale il Cardinale approfondisce la sua lettura dell'enciclica papale Caritas in Veritate sarà ed è infatti molto di più. Una riflessione, un dialogo occasione anche per la presentazione dell'ultimo libro dell'Arcivescovo Etica e Capitale Un'altra economia è davvero possibile? Articolato e approfondito sui temi ispiratori del pronunciamento papale. La sede è prestigiosa l'Università Bocconi presenti il presidente Mario Monti il rettore Tabellini il prorettore Marchetti e poi ancora a dialogare con l'Arcivescovo nomi noti dell'economia e della finanza Giuseppe Guzzetti e Franco De Benedetti e a tutti, anche all'affollato parterre che il Cardinale richiama il senso di alcune parole chiave dell'enciclica ma anche centrali per edificare un'altra economia amica dell'uomo, spiega e dello sviluppo umano integrale e si parla così di persona più che di individui di etica, di dono, di speranza con cui guardare il futuro con quel novum che è appunto la logica del dono che trova già una precisa rispondenza e risorsa nel cosiddetto terzo settore nel volontariato nell'impresa sociale l'impegno più urgente è quello di promuovere il dono nella sua valenza politica contro la sua marginalizzazione col suo confinamento esclusivo o comunque depotenziato nel sociale perché l'umanità e la carità non sono mai contro l'economia ma la guariscono se malata come adesso Dobbiamo ripensare il nostro stile di vita siamo più delle volte contagiati tutti dal consumismo e il consumismo quando è sfrenato quando va oltre la giusta misura del necessario e del positivo consumo non può non risolversi se non in una rinnovata crisi Insomma, sobrietà e carità le due parole d'ordine di questo anno pastorale con attenzione, ahimè, alla crisi e parole che rientrano in pieno anche nella Caritas Inveritate di cui è oggetto il libro che ricordiamo di nuovo del Cardinale Perlarizzoli Etica e Capitale Ora è tempo che ci fermiamo per qualche istante di pubblicità poi saremo di nuovo assieme per altri servizi e altre notizie Vi aspetto Ben trovati cari amici per la seconda parte della Chiesa nella città Vorrei ora parlarvi di famiglia perché in arrivo un appuntamento per tutti i preti che si occupano di pastorale familiare nelle diverse zone nei diversi decanati in cui è suddivisa la diocesi di Milano Ebbene per loro venerdì 6 novembre alle ore 9.45 presso il centro pastorale l'ex seminario di corso di Porta Venezia 11 a Milano un incontro in cui si farà il punto per le iniziative dell'anno e si delineeranno nuove strategie per la famiglia e di famiglia ci si è occupati anche per l'inaugurazione di una nuova iniziativa in quello che è un po' il cuore diocesano della famiglia ovvero il santuario di Santa Gianna Beretta Molla a Mesero lì si è recato anche l'arcivescovo proprio per inaugurare questa nuova iniziativa vediamo il servizio A due anni esatti dalla dedicazione a Santa Gianna Beretta Molla del santuario diocesano della famiglia di Mesero secondo gli impegni presi ha aperto le sue porte anche il centro di spiritualità sempre intitolato a Santa Gianna inaugurato dal cardinale Tettamanzi come punto di riferimento per la vita spirituale di molte famiglie lo spazio moderno e funzionale con quattro sale di cui la più grande di 50 posti intitolata Paolo VI e una a Monsignor Mario Spezzi Bottiani è annesso al santuario stesso dove l'arcivescovo ha presieduto una celebrazione eucaristica per l'evento ricordando quanto la famiglia possa essere fonte di affetti di crescita cristiana di riscoperta del comune ministero battesimale di beatitudine così come fu per Santa Gianna ma come deve essere anche per ciascuno nella vita di ogni giorno con lo spirito che animò i coniugi Marten genitori di Santa Teresa di Lisieux le cui reliquie il cardinale dona al santuario un centro di spiritualità dunque che punta anche alla formazione concreta e il pensiero va subito all'incontro mondiale delle famiglie nel 2012 sì abbiamo terminato questo triennio pastorale sulla famiglia ma come chiesa di Milano abbiamo la gioia e la responsabilità di prepararci e di preparare nel 2012 una data vicina vicinissima l'incontro mondiale delle famiglie che il Santo Padre ha voluto fosse affidato appunto alla nostra città di Milano alla nostra chiesa ambrosiana sì diciamo Santa Gianna è conosciuta come la Santa della quotidianità come l'aveva definita allora il cardinale Martini e questa sua quotidianità e questa sua essere una persona contemporanea una mamma di famiglia fa sì che la sua la conoscenza la diffusione della sua vita della sua storia sia così ampia in tutto il mondo quando uno riesce a entrare nel cuore di Dio attraverso il cuore di questa santa e di tante altre sante mamme che esistono qui a Mesero e dappertutto io penso che anche questo peso della giornata può essere affrontato con serenità con fiducia con coraggio continua il programma di letture ecumeniche della parola presso la chiesa milanese di San Gottardo al palazzo sita proprio alle spalle di Palazzo Reale quindi siamo a due passi dal Duomo di Milano l'appuntamento è come di consueto per sabato in questo caso sabato 7 novembre sarà protagonista il pastore ortodosso padre Trajan Waldman della chiesa ortodossa rumena per maggiori informazioni come vedete potete consultare il portale della diocesi all'indirizzo chiesadimilano.it in un precedente servizio quello dedicato al pontificale di San Carlo con il discorso del cardinale ai preti sul tema del celibato avrete notato come nel Duomo di Milano siano stati esposti come vuole la traduzione i cosiddetti quadroni o teleri dedicati alla vita di San Carlo ebbene andiamo a scoprirli assieme grazie al servizio di Luca Frigerio in questi giorni le navate del Duomo tornano ad arricchirsi di straordinarie opere d'arte si tratta dei cosiddetti quadroni di San Carlo oltre 50 grandi tele realizzate nei primissimi anni del Seicento da alcuni fra i più importanti maestri dell'epoca che rappresentano la vita e i miracoli del Santo Vescovo milanese due infatti sono i cicli pittorici il primo è riferito ai fatti della vita del Beato Carlo ed è costituito da 26 teleri di 6 metri di base per quasi 5 di altezza il secondo ciclo invece ha per oggetto i miracoli di San Carlo e comprende altrettante tele di dimensioni un po' più contenute un'impresa eccezionale voluta dal cardinale Federico Borromeo e avviata dalla veneranda fabbrica del Duomo nel 1602 quando cioè si avviava il processo di canonizzazione di San Carlo lo scopo del resto non era solo quello di realizzare un'opera monumentale dedicata al vescovo Carlo ma soprattutto quello di creare una sorte di grande libro figurato in cui le immagini raccontassero e ricordassero a tutti i fedeli ambrosiani la santità del loro pastore per questo progetto grandioso ci si affidò così ad artisti di sicuro mestiere come Paolo Camillo Landriani meglio noto come il Duchino o come Giovanni Battista della Rovere in arte Fiammenghino o ancora come Carlo Buzzi il Procaccini il Morazzone ma la mano più felice è senza dubbio quella del Cerano guardate ad esempio questo dipinto alle mie spalle come emerge il Pathos si tratta della visita di San Carlo agli appestati e le figure in primo piano straziate dal male sembrano riprendere vita al passaggio del vescovo fra gli episodi della vita di San Carlo infatti fin dall'inizio venne dato ampio risalto in questi dipinti proprio all'azione del vescovo durante la peste sublime prova di umiltà carità e responsabilità e alle medesime qualità evangeliche fanno riferimento anche le tele che rappresentano il Borromeo rinunciare a titoli e rendite distribuendo ai bisognosi i propri beni nonché quei quadri che evidenziano quel suo stile di vita estremamente sobrio ed ascetico nel 1610 a canonizzazione appena avvenuta veniva inaugurato il secondo ciclo di quadri quello che rappresenta i miracoli di San Carlo Borromeo e che oggi vediamo appesi sotto quelli più grandi della vita nella rappresentazione di questi eventi prodigiosi infatti il linguaggio pittorico prende un senso più intimo e quotidiano facendo appello all'esperienza del singolo fedele una spontaneità davvero popolare quasi da ex voto e ci si ristituisce tutta la paterna grandezza di San Carlo umile fra gli umili pastore di quel gregge che gli era stato affidato i teneri rimarranno esposti per qualche settimana in Duomo quindi se volete approfittarne e passate dal centro di Milano vale davvero la pena magari guardare con occhi diversi anche dopo questi suggerimenti di Frigerio questi veri e propri capolavori che caratterizzano il nostro Duomo parliamo ora di un'iniziativa che ha avuto un riscontro molto più ampio delle aspettative ovvero il corso per coloro che intendono costruire un sito internet a livello parrocchiale tanto che si è dovuta cambiare la sede inizialmente era previsto presso il Salone della Curia ora tutti i sabati di novembre presso il Cinema Palestrina di Via Palestrina 7 a Milano parrocchia del Redentore zona Piazzale Loreto il titolo del corso è per fare un sito internet ci vuole e informazioni sul portale internet appunto della diocesi di Milano ma ora rientrando in studio sono pronto a darvi una nuova possibilità di approfondire anche questa tematica di internet grazie all'intervista che Anna Maria Braccini ha realizzato con il responsabile dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi Don Davide Milani che è anche il responsabile del corso di cui vi ho appena parlato sentiamo cosa ci vuole per fare un sito la convenzione comune è che sia facile fare un sito internet di per sé non è molto complicato basta avere dello spazio qualche ragazzo come si dice in gergo smanettone e il gioco è fatto in realtà comunicare per internet richiede delle abilità particolari un linguaggio fintamente semplice quello che troviamo su internet servono appunto la capacità di penetrare il linguaggio vogliamo che le parrocchie della diocesi parlino sempre di più questa opportunità e usino bene lo strumento internet da una recente ricerca appena presentata abbiamo scoperto che le parrocchie della diocesi di Milano sono quelle più alfabetizzate dal punto di vista internet ecco vogliamo che tutte le parrocchie la maggior parte delle parrocchie si doti di questo strumento ma lo faccia bene come diremo nel corso non basta esserci bisogna esserci bene nel mondo di internet i redattori saranno andetti ai lavori i giornalisti persone che costruiscono il portale della diocesi ma questi incontri sono aperti a tutti alle parrocchie agli operatori ai giovani ai volontari vorremmo che i partecipanti i giovani persone che già sanno utilizzare internet persone che non lo sanno utilizzare venissero per capire il perché di un sito e al termine di questo corso potessero possedere quei quattro elementi fondamentali per accedere poi alle competenze tecniche che si possono trovare anche altrove dopo esserci tuffati idealmente in internet adesso andiamo invece alla sorgente di ogni impegno anche quello in internet ovvero la parola domenica è la festa liturgica di Cristo la conclusione dell'anno liturgico e allora mettiamoci in ascolto del Vangelo previsto dal lezionario Ambrosiano con il successivo commento dal Vangelo secondo Luca in quel tempo anche i soldati deredevano il Signore Gesù gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano se tu sei il re dei giudei salva te stesso sopra di lui c'era anche una scritta costui è il re dei giudei uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava non sei tu il Cristo salva te stesso e noi l'altro invece lo rimproverava dicendo non hai alcun timore di Dio tu che sei condannato alla stessa pena noi giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni egli invece non ha fatto nulla di male e disse Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno gli rispose in verità io ti dico oggi con me sarai nel paradiso quando l'essenziale perde importanza la terra si riempie di tristezza essenziale potremmo dire è la felicità ecco quando la proposta la prospettiva di essere felici viene considerata come una bella favola allora la terra si riempie di quella tristezza che chiamiamo la banalità ecco mentre si celebra il grande sacrificio e Gesù offre se stesso per offrire a tutti la vita di Dio i soldati sotto la croce hanno voglia di ridere di scherzare di schernirlo parlano di qualunque cosa riempiono la loro vita di chiacchiere è la desolazione della banalità mentre proprio lì avviene l'evento che cambia la storia la banalità impedisce di vederlo e di raccogliere la possibilità di essere felici quando si dimentica l'essenziale la terra si riempie di rabbia di risentimento è l'atteggiamento di uno dei malfattori crocifissi con il Signore che lui invece di cogliere l'essenziale qui potremmo dire che il nome dell'essenziale è la possibilità di essere salvati è la speranza di un futuro è il desiderio di un paradiso ecco quando tutto questo diventa improbabile o viene smentito o disatteso allora domina sulla terra la rabbia la terra si riempie di risentimento ecco quando noi perdiamo di vista l'essenziale restiamo imprigionati nella banalità o angustiati dalla rabbia e dal risentimento ma invece chi spera nella felicità chi coglie l'evento essenziale che si svolge sotto i suoi occhi allora può sentirsi dire che il paradiso è aperto per lui il nostro mondo sembra fare del paradiso un luogo estraneo ai nostri desideri ma la festa di tutti i santi il ricordo dei nostri morti la domanda inevitabile sul nostro destino eterno ci dice che forse stiamo dimenticando l'essenziale restiamo imprigionati nella banalità restiamo vittime della rabbia e del risentimento chissà che oggi non sia il giorno adatto per aprirci alla speranza di una vita che non finisce beh tanti argomenti tante buone occasioni anche per fare una sorta di verifica per quello che è il termine la fine dell'anno liturgico infatti settimana prossima poi inizierà l'avvento e quindi un nuovo anno liturgico con tutto ciò che questo porta con sé è ora di salutarci e io vi ringrazio naturalmente per essere stati con noi e vi rimando all'appuntamento di domenica alle 13 con la chiesa nella città nel corso della quale tra l'altro Anna Maria Braccini ospiterà Don Enrico Parolare per parlare di preti e celibato sulla scorta di quanto detto nella festività di San Carlo dal cardinale in Duomo è davvero tutto grazie di nuovo e buon proseguimento con Telenova questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana il settimanale della famiglia grazie a tutti